Ecco ci troviamo al nuovo di Via Olimpia, esibizione dei primi calci della Virtus Castelfentano con la Valdisancro. C'è il mister Gabriele dall'altra parte, qua c'è il mister Valdisancro, qua c'è il gruppo sempre dei primi calci, qui c'è il mister Francesco Mancini e c'è la mister Annarita Valente, là in fondo c'è i portieri che si stanno allenando con il preparatore dei portieri, il mister Aurelio Gaspari. C'è un forto pubblico che sono i genitori, anche sulla tribuna è a bordo campo. Signore e signori alla prossima ripresa, buongiorno.